Il sistema prevede un modulo interamente dedicato alla reportistica. Il modulo è diviso in diverse sezioni che permettono di analizzare nel dettaglio tutti i Recruiting Analytics, i KPI di selezione e quelli commerciali. Per quanto riguarda la parte di selezione, è possibile analizzare tutti i dettagli di ogni singolo processo incrociando i dati per Recruiter, Sedi e selezionando liberamente l'arco temporale. Inoltre, sono presenti statistiche sulle attività fatte con il candidato, sui dossier e sui profili condivisi con il cliente ed è possibile persino analizzare gli assunti per canali di reclutamento. Per quanto riguarda invece la parte commerciale, è possibile estraporare tutti i dati di dettaglio sui propri clienti, prospect e attivi. Inoltre, è possibile anche in questo caso avere un dettaglio sulle attività fatte con ciascun cliente e sulle opportunità gestite, interrogando il database per periodo, filiale ed employer. Tutti i dati possono essere esportati in qualsiasi momento dal sistema in diversi formati. Inoltre, è sempre possibile integrare delle statistiche personalizzate sulla base delle specifiche esigenze.